Per la terza volta nel giro di poche settimane manca il numero legale e il Consiglio Comunale di Gubbio viene sospeso. In 12 sono rimasti all'appello del Presidente Pecci, tutti nella maggioranza, ma con due assenti, il numero legale non era garantito. Tutti a casa con alcuni vantaggi Pierotti, Menichetti, Martinelli, Ruspi e Cerbella che hanno già dichiarato di rinunciare al gettone di presenza. Ecco allora come si presentava oggi pomeriggio la sala della Residenza Comunale, scranni vuoti consiglieri in attesa del termine della lunghissima riunione dei capigruppo durata quasi un'ora. Al primo appello con le opposizioni nei corridoi in 11 erano presenti, dopo un quarto d'ora nuovo appello con Nicola Loia tornato presente, nemmeno questo è bastato. Determinante questa volta per l'assenza è stata la scelta di Pasquale Di Bacco rimasto fuori dall'aula, decisione che ha causato una noncelata amarezza nel Sindaco. Renzo Menichetti in apertura aveva annunciato l'abbandono degli scranni, motivo una polemica con il presidente dell'Assise. Il consigliere del PD aveva infatti chiesto una dichiarazione spontanea di Pecci sui due documenti che ne chiedono la dimissione, uno di questi con nove firme in calce delle opposizioni, uno a firma di Menichetti stesso. Servono almeno 10 firme per la discussione e di due documenti non sono cumulabili, quindi questo argomento non è all'ordine del giorno la replica di Pecci. Una vicenda che ha finito per condizionare poi l'andamento dell'intera seduta. È saltata così l'attesa discussione sul documento di giunta in materia di farmacie. Domani era prevista la consegna in regione dell'atto approvato anche dal Consiglio Comunale per l'apertura di un nuovo servizio a Cipolleto-Ponte d'Assi e non più a Carbonesca. Resta invece la farmacia di scritto. Quindi il numero non è sufficiente per riprendere i lavori, la seduta è tocca.